Procede a passi spediti il progetto di riqualificazione dell'ex fiera, una struttura sportiva vettusta e costosa in termini di manutenzione e spese energetiche. Architetti, ingegneri, tecnici e progettisti sono al lavoro per realizzare a Pordenone un centro sportivo avveniristico, energeticamente efficiente e con nuovi impianti di pallacanestro, volley e calcetto. Altri destinati a danza e ginnastica, altri ancora per scherma, pesistica, arti marziali ed hockey. Sui tetti ci sarà spazio per gli impianti fotovoltaici e verrà realizzato anche un campo da basket, proprio come nelle grandi città. La riqualificazione dell'ex fiera non è un capriccio all'amministrazione ma è un'esigenza improrrogabile, un edificio che a me mostra tutti i segni del tempo con gli impianti che non sono più a norma, che ospita centinaia di associazioni, migliaia di ragazzi che quotidianamente la frequentano. Abbiamo intercettato un finanziamento importante di 12 milioni di euro che ci consentirà di ampliare i spazi attuali, di renderli più confortevoli e più adatti alle tante discipline. Un punto di riferimento per i giovani di questa città. Significa sicuramente avere qualche disagio ma significa anche aumentare notevolmente la qualità degli impianti sportivi a servizio dei nostri ragazzi. Stiamo lavorando lacramente sulla progettazione, proprio oggi si è tenuto un incontro. Il termine previsto per i lavori è quello del 2026. Significa che Pordenone guarda sicuramente con attenzione alle strade, alle infrastrutture, alla viabilità, alle edilizie ma anche i luoghi che quotidianamente frequentano i ragazzi che devono essere confortevoli e sicuri. I giovani spesso e volentieri vengono citati molto spesso dalla politica ma in realtà presi in considerazione veramente troppo poco. L'idea di sviluppare un cosiddetto nuovo Polo Young è pensato soprattutto per la grande concentrazione di giovani che già sono presenti nella zona di via interna, insomma la zona che gravita intorno al palazzetto dell'Ex Fiera e che adesso come adesso non è in grado di soddisfare tutta la domanda di non solo di incontro legato al mondo dello sport ma anche del tempo libero. E quindi il luogo che da un punto di vista della rigenerazione urbana che è più vocato appunto per essere trasformato in un polo veramente destinato al mondo giovanile è quello dove c'è la più gran parte delle concentrazioni delle scuole superiori ma non soltanto, dove ci sono già attrezzature sportive, il palazzetto dello sport e appunto l'Ex Fiera, dove è presente la casa dello studente, dove si svolgono attività post scuola, dove è presente una mensa, dove ci sono delle aule studio. Da qui l'idea e adesso si parte veramente con la progettazione e la progettazione è partecipata soprattutto con coloro, ovvero le associazioni sportive che sono i protagonisti di questa infrastruttura strategica.